Voglio chiedere ad Alexandra, in qualità di segretaria, tu ti occupi di import ed export. State portando avanti un progetto molto importante a livello di imprenditorialità. Sì, prima di tutto volevo ringraziare per questa opportunità e complimentarmi per l'idea di questo evento, insomma evento donna, che sicuramente più parliamo delle donne e dei loro ruoli nella vita quotidiana, meglio è. Meglio raggiungiamo i scopi di empowerment e scopi di parità di genere, che è quello nostro. Per quanto riguarda il nostro progetto di imprenditorialità, sì perché io poi volevo prima di tutto dire che in realtà io ho due cuori adesso, un cuore polacco e un cuore italiano. Mi sono trasferita in Italia nel 2006. Da quanti anni? Nel 2006. Quindi diciamo, e questo è anche, insomma, sono una testimonianza. Ti sei trovata bene in Italia. Sì, grazie, sì, sì, mi sono trovata molto bene anche grazie alla FIDAPA. E grazie a Bettina che mi ha incuriosito, che ha insistito a me di far parte di FIDAPA. Affinché potessi entrare. E a questo punto, insomma, sono diventata secretaria, offrendo, diciamo, il mio servizio degli altri per capire meglio cultura, per includermi, diciamo, nella società. E devo dire che sono molto, molto contenta. E FIDAPA mi ha permesso di crescere sia personalmente che professionalmente. Per quanto riguarda, invece, questi nostri vari progetti, in realtà. C'è un'esperienza diretta. Abbiamo una testimone, insomma, veramente. Sì, diciamo, sì. Sono una testimone dell'internazionalità, diciamo, questa federazione. Perché io, essendo dalla Polonia, ho anche contatti internazionali con altre sezioni di altri paesi, diciamo. Per quanto, invece, riguarda i nostri progetti, insomma, sono le cose molto dinamiche che vengono create spontaneamente sulla richiesta delle socie, tutte socie, poi che giustamente siamo tutte presidenti. Quindi, che qualsiasi socia può chiedere un'iniziativa, un evento. E questo qua, in particolare, stiamo, diciamo, portando avanti il progetto natalizio. Quindi, diciamo, vogliamo dare alle socie spinta di promuovere in qualche modo quello che fanno nell'ottica di eventuali regali di Natale. E, diciamo, qua magari Bettina sa meglio raccontare il progetto più, diciamo, profondo, ecco. Alexandra tende a tirarsi indietro. Perché, come tutte le persone straniere che, in qualche modo, si trovano a dover interagire, crede di fare brutta figura. Invece, io credo che la cosa bellissima, anche di un evento come il vostro, sia proprio quello di poter dire, non c'è un errore. Siamo quelle che possiamo essere. Alexandra sta curando questo aspetto dell'imprenditoria legata alle socie, perché abbiamo deciso di sposare il messaggio, compriamo locale e valorizziamo i talenti che abbiamo. Allora, noi abbiamo... Le parole a lei non... Allora, in realtà, noi abbiamo fra di noi delle imprenditrici. Abbiamo delle artiste che hanno realizzato progetti speciali. Abbiamo delle couturie. Abbiamo... Banalmente puoi regalare un corso di canto in remoto. Puoi... E quindi abbiamo deciso di dare questa possibilità di promuovere all'interno dei nostri social e ai nostri canali. Anche perché tu facevi riferimento, questo è il periodo in cui dobbiamo cambiare. Cambiare. La parola... Modo di comunicare, modo di stare insieme, di relazionarci. Dobbiamo trovare formule nuove. Quindi il fatto di poter utilizzare il digitale, formare anche artigiane, che sono brevissime. Ad esempio, questo è un dono che mi hanno fatto alla fine del mio mandato. È realizzato da una nostra socia, che è una artigiana orafa. E preferiamo in questo momento dare voce a loro. Però, come spesso succede con gli artigiani, raramente hanno anche competenze di tipo commerciale o e-commerce, o di promozione del proprio brand nel modo adeguato. E quindi, grazie al fatto che siamo una rete all'interno di un'altra rete, usiamola in questo periodo anche a favore dell'imprenditoria locale, in questo caso. Una parte, diciamo, di questo progetto è creazione di un catalogo, una sorta di catalogo, che non solo alla fine sarà un catalogo, diciamo, distribuito online, entra nei nostri soci, insomma, per far vedere anche quello che facciamo, perché non è solo scopo puramente, diciamo, economico, ma anche far vedere veramente cosa si può fare nella vita, quanto siamo diverse, ma belle in tutto questo. Sì, ognuno è originale nella propria personalità, unica e ripetibile, può fare delle cose belle. Esatto. E infatti adesso, proprio in questi giorni, stiamo raccogliendo, diciamo, materiale per creare questo catalogo e devo dire che io, che appunto ho avuto molto contatto proprio quotidiano con le socie, so che questo è anche una sorta di imparare digitale, di familiarizzare più con le nuove tecnologie, che giustamente magari prima non si guardava così tanto, no? Invece è un aspetto che adesso nella vita che stiamo vivendo non può assolutamente mancare. Sì, ci siamo resi conto che infatti serve, c'è una cosa necessaria per poter continuare la vita, diciamo, anche in questa situazione così difficile. Io so che avete fatto anche un gemellaggio molto importante con Houston. Sì, infatti ti volevo, questo aspetto, noi abbiamo un gemellaggio con la città di Houston, nata per una specifica sintonia. Avevamo focalizzato la problematica delle cardiopatie femminili e, forse sai, a Houston ci sono dei centri di ricerca sulle cardiopatie molto, molto avanzate. La presidente della sezione di Houston, Paola Ferrari, è una donna italiana. In quell'occasione ci incontriamo a New York durante il CSV 60, che è il meeting internazionale delle Nazioni Unite focalizzato sull'empowerment femminile. Ci incontriamo e decidemmo che il gemellaggio doveva essere efficace perché noi abbiamo festeggiato come sezione Roma i 90 anni già l'anno scorso, perché la nostra madre fondatrice aprì la nostra sezione nel 29, mentre la BPW e la FIDAPA nacquero nel 30. Assieme a Milano e Napoli costituiamo, diciamo, le tre associazioni. Avete fatto anche dei bei festeggiamenti? Sì, e in quell'occasione facciamo anche il gemellaggio. Quindi l'obiettivo era di focalizzare questa cosa. Però per dirti, abbiamo fatto anche dei meeting con Malta perché lì avevamo creato delle sinergie specifiche proprio per la realizzazione di eccellenze italiane sponsorizzate da un premio particolare con cui avevamo fatto un accordo culturale. Ci piace fare rete e quindi il fatto di avere, per esempio, Alexandra mi era stata presentata dal console onorario Cristina Goraischi di Ancona, che è console onorario di Polacco qui in Italia, per le Marche, il fatto di far parte... Volevo farti vedere, noi siamo come una piramide. Il progetto della sezione Roma si sposa all'interno del tema nazionale che è quello di creare opportunità di sviluppo economico per le donne, in cui ci sono, a seconda delle città, dei paesi, iniziative specifiche. Queste si collogano a loro volta in un progetto più ampio che è l'empowerment economico delle donne a livello di programma internazionale che si occupano di far sì che i paesi ricepiscano istanze di questo tipo e noi le collochiamo invece in modo pratico, in modo tale da avere consistenza di messaggio. Interessantissimo. State portando avanti anche un progetto sull'ambiente, molto importante, con UNI3, sul Dipartimento Tecnologie del Mare, appunto a sostegno dell'ambiente. Sì. Questo è un argomento anche molto importante. Uno degli obiettivi di parità di genere è la rappresentanza o la possibilità che le donne si formino più in materie scientifiche e matematiche. Questo perché sono anche i lavori che poi vengono retribuiti di più. Quindi uno dei motivi per cui la retribuzione media femminile risulta più bassa è anche perché ci accontentiamo, fra virgolette, di lavori meno retribuiti. Il nostro obiettivo è che tante donne si collochino, studino ingegneria, studino matematica e fisica. E uno degli obiettivi con UNI3 era proprio promuovere questa nascita di questo nuovo dipartimento che è nato due anni fa, sì, e che vedrà la fine del primo triennio, quindi del primo percorso di laurea, con le prime laureate in ingegnerie di tecnologie del mare, prevenzione del territorio, prevenzione della nostra costa. A Roma noi abbiamo un bellissimo mare, perché non avere anche delle discipline che ci aiutino a proteggerlo e a tenerne cura. A conservarlo. E che sia magari guidato da delle donne non sarebbe male. Bene. A me ha colpito moltissimo la cosa del past proselitismo, ovvero l'attività di coinvolgere sempre più persone a creare una rete di solidarietà. Questa cosa la trovo molto importante. Il ruolo delle past presidenti in generale è quello di fare proselitismo, quindi cogliere opportunità come questa per avvicinare il più possibile nonne, io dico personalmente all'associazionismo, cioè al ruolo di far parte di un network in cui tu possa sentirti parte di un sistema. Poi, in modo molto più pragmatico ed interessante per noi, ovviamente che tu venga a far parte della FIDAPA, perché ovviamente abbiamo sempre bisogno di nuovo know-how, di condividere esperienze di tipo diverso. Ad esempio una giornalista come te ci manca. Allora mi offro oggi, comunico ufficialmente che in sede di Festival Internazionale Evento Donna esprimo il mio desiderio di entrare a far parte come socia della FIDAPA. Sarebbe bellissimo, Ale, le fai da madrina. Allora, Alexandra e io saremo felici di farti da madrina. Va bene, vi ringrazio. Perché abbiamo sempre bisogno di punti di vista diversi. Insieme siamo tutte molto, molto più forti e più sorridenti. Bene. Anche approfitto di dire che in realtà, diciamo, le nuove socie, quindi ogni anno si accumula il numero delle nuove socie e c'è una celebrazione proprio per l'ingresso. Quindi si fa una cena di candele, si chiama, che è una cerimonia molto particolare con tutto il protocollo dove le nuove socie vengono accolte e diventano parte di FIDAPA. Che bella. Quindi non è solo idea... È una grande famiglia. Sì, sì. Non è solo entrare così, diciamo, iscrivendosi, no? E c'è anche un momento, diciamo, molto importante... Di cerimoniale, di condivisione. Elegante, molto, diciamo, bello. Quest'anno purtroppo non era possibile causa, diciamo... Della pandemia. Della pandemia, però normalmente anche la mia stessa cerimonia era bellissima. E infatti ogni socia poi si ricorda questo momento come un momento importante... Un battesimo, diciamo. Sì, sì. Avere proprio un battesimo per entrare a far parte... Anche per questo Bettina giustamente parlava delle madrine, perché per far parte della FIDAPA, per entrare, devi avere due socie che ti in qualche modo sponsorizzano, in qualche modo ti guidano poi anche nella tua vita associativa. Bene, allora io avrò due madrine speciali. Sarà un onore. Intanto vi ringrazio di essere state con noi, per aver dato il vostro contributo speciale. E vi faccio un dono, un dono per un sorriso. È una pallina di Natale realizzata dall'UNLIGHTS, un'associazione per la ricerca e la lotta contro l'HIV. e la potete prendere, perché io non la posso consegnare, ma è un piccolo gesso natalizio per aiutare questa associazione che fa tanto per la prevenzione dell'HIV nei giovani, perché purtroppo se ne parla sempre meno. No, dicevo proprio oggi che è una realtà. Quattro persone al giorno si infettano in Italia ancora. Allora, grazie ancora e ripartiamo insieme con l'empowerment femminile. Grazie a FIDAPA, grazie a Bettina e grazie ad Alexandra, che saranno le mie due nuove matrine. Grazie a te. Con piacere. Grazie.